Ho conosciuto Gioele tramite delle amicizie comuni e abbiamo iniziato questo lavoro nell'agosto del 2014. Lo considero tuttora in corso perché mi piacerebbe seguire le diverse fasi della sua vita, magari fino alla maggiore età. Gioele è quaderno del Tempo Libero e il libro fotografico di Fabio Moscatelli presentato oggi nella sala giunta di Palazzo San Giacomo alla presenza dell'assessore al welfare Roberta Gaeta. Il testo è una raccolta di foto, appunti e disegni attraverso cui Gioele, un ragazzo autistico di 12 anni, comunica la propria realtà interiore attraverso storie e fotografie che ama scattare dalla finestra. È un libro secondo me a quattro mani perché oltre alle mie ci sono le sue, ha contribuito in maniera estremamente attiva oltre che con i disegni anche con le foto perché era comunque attratto anche dal mezzo fotografico. Quindi a un certo punto ho deciso di dare la macchina anche a lui che ci ha mostrato come vede lui il mondo attraverso la fotografia. L'intento della giornata di oggi è quello di parlare di un tema come l'autismo difficile da affrontare, difficile da capire ma che forse noi possiamo guardare anche in modo diverso provando ad ascoltare maggiormente quello che è un linguaggio che noi non riconosciamo e che invece è importante conoscere se vogliamo veramente andare incontro ai bisogni alle necessità dei nostri ragazzi e dei nostri bambini. Presenti insieme all'autore Fabio Moscatelli, la curatrice del libro Irene Ellison e la fotografa Luciana Latte. Il titolo nasce, ce lo suggerisce proprio Gioele che ama molto disegnare, ama scrivere e un giorno abbiamo trovato un suo foglio protocollo che raccoglieva dei suoi disegni, ha fatto una sorta di copertina su cui appunto c'era scritto Gioele Guaderno del Tempo Libero.